Cari amici, un video che non era in programma, un breve video che non era in programma, ma quando si è ignoranti, si è ignoranti, bisogna ammettere la propria ignoranza, pagare pegno e cercare di superarla. Quel genio indiscusso del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, il grande famoso appunto genio Matteo Ricci, sindaco PD di Pesaro, ha fatto, ve lo giuro, sono andato a verificare quando me l'hanno segnalato perché non credevo che fosse possibile, cinque giorni fa un'ordinanza per rendere le mascherine obbligatorie in centro storico dal 27 novembre, quindi dal 27 novembre al 9 gennaio, ma soltanto dalle 10 alle 22. Vi prego di credermi, di verificare, anzi perché dovete sempre verificare, ma questa ordinanza vale tutti i giorni, ma dalle ore 10 alle ore 22. Ora vedete che non si finisce mai di imparare, sarebbe bello che ci spiegasse anche perché il virus prima delle 10 del mattino non entra in servizio, non è pericoloso e allo stesso modo dopo le 10 di sera torna a non essere pericoloso. Quindi abbiamo un virus che ama, non ama le levatacce, si sveglia con comodo e esce non prima delle 10 di mattino. Se però inizia a lavorare, prende servizio alle 10 del mattino e lavora fino alle 22, sono molte ore consecutive di servizio, più delle otto ore che credo ogni lavoratore debba fare. Quindi si aprono a questo punto anche delle avvertenze sindacali, scusate l'ironia, ma siamo veramente fuori di testa, siamo veramente fuori di testa, speriamo che si torni presto a quote più normali o forse sono io che non capisco e questo appunto genio, genio che risponde al nome di Matteo Ricci e Matteo Ricci del PD, sindaco di Pesaro. In tal caso avrà la bontà di spiegarci le profonde ragioni che recondite che lo hanno portato a prendere questa decisione di portata davvero storica per l'intero genere umano e per il futuro di tutta l'umanità. Grazie, iscrivetevi al mio canale, grazie per l'attenzione e volevo segnalarvi questa cosa un po' strambuccia diciamo e alla prossima videopillolina. Grazie.